È il terzo anno consecutivo che mettiamo in atto un laboratorio teatrale. Quest'anno in una formula organizzativa diversa rispetto a quella degli altri due anni, ma altrettanto un'esperienza veramente importante. Importante per me, importante per gli allievi, ma io credo importante anche per il territorio, perché questo è un segno di apertura che si vuole dare della popolazione carceraria verso la popolazione di Sala Consilina e viceversa. Ivules trua pace, che prende spunto questo titolo da una poesia di Edoardo De Filippo, in questo mese particolare, quando appunto il 31 ottobre ricorrerà il trentennale della morte di Edoardo, abbiamo voluto, anche insieme con i detenuti allievi, fare un omaggio all'arte eduardiana. Come è stato lavorare con dei attori non professionisti, diciamo? È molto molto interessante, molto interessante da un punto di vista sociale, culturale, un'esperienza che arricchisce senza ombra di dubbio ogni qualvolta la si rinnova. Perché spesso poi, come io dico, magari erroneamente siamo abituati a pensare che chi sta in carcere sono delle persone diverse da noi, ma in realtà sono assolutamente esseri umani come noi, che sicuramente in un loro periodo della vita hanno commesso degli errori. L'importante è provare a far capire loro che l'errore si paga e poi si può, come dire, recuperare e reinserire nel contesto sociale con regolarità e rispettando la legge. E il laboratorio teatrale, al di là di dare loro l'opportunità di conoscere la materia teatrale, dà sicuramente l'opportunità di incontrare la libertà e di capirne il valore, in modo tale che una volta fuori da questa esperienza, possono fare di tutto per conservarla quanto più possibile. Il laboratorio teatrale è un'iniziativa che abbiamo già sperimentato da tempo, con grande successo, con grande entusiasmo e soddisfazione. Quindi su questo possiamo dire che è un'esperienza che nel tempo abbiamo maturato rinnovando di volta in volta quelle che sono le valutazioni positive, in ordine sia alla finalità rieducativa dell'iniziativa, ma soprattutto in ordine anche all'opportunità che vengono offerte alla popolazione dei detenuti in termini proprio di esperienza di vita, perché il teatro, che penso che ormai in tutte le realtà penitenziarie rappresenti un'iniziativa vincente, è un'occasione di sviluppo della personalità, non solo individuale, ma soprattutto di quelle che sono le capacità relazionali dell'individuo, cioè la capacità di stare insieme, di integrarsi, di socializzare, e quindi la capacità anche di proporsi in termini positivi, costruttivi. Tutto ciò poi ha un riverbero positivo, non soltanto adesso, dell'immediato, per il momento della permanenza in carcere, ma soprattutto per quello che sarà la prospettiva successiva alle dimissioni dall'Istituto. Quindi noi siamo contenti, con soddisfazione, voglio sottolineare che è un'iniziativa che è stata realizzata grazie alla Regione Campania, abbiamo l'ente formatore che sono la congregazione delle Suore Salesiane Sacro Cuori, che hanno proposto questa iniziativa e noi abbiamo aderito con interesse, perché l'abbiamo richiesta specificamente, e anzi vorrei ringraziare in modo particolare l'ente formatore, perché ha dimostrato nella fase di realizzazione del progetto, al di là di quelle che sono le dichiarazioni di intenti e le indicazioni di carattere generale che vengono indicate nel progetto, ha calato questa attività nel concreto della realtà, non del carcere, ma di Sala Considina, cioè di questa comunità.